La degustazione di oggi perché in ore 12, l'abbiamo detto fin da lunedì, è la settimana dei vini e quindi inviterei Massimo Fasoli di Cadelvent che ci porta oggi. Buongiorno intanto Massimo, bentrovato. Buongiorno. Cosa ci porta oggi Massimo? Vi porto un Franciacorta Brut, uno spumante di qualità italiano. Mi dicono che è la prima volta che viene presentato un Franciacorta nella vostra trasmissione quindi vi direi che la nostra regione viti vinicola si estende dalle colline subito dopo la città di Brescia fino al lago di Seo. Benissimo, ce lo fa assaggiare? Ce lo farei assaggiare. Benissimo, Lucchini ama bere un po' di vino, quello buono ovviamente. Sì, io amo berlo ma poi non vorrei ubriacarmi in diretta per cui cercherò di trattenermi. Va bene, poi ci sono anche degli stuzzichini così almeno non si beva vino buono. a stomaco vuoto, grazie Massimo, tra un po' ci rivediamo e parliamo di un altro vino.